www.redigio.it e la storia continua Non solo da bere. Con la crescita demografica dei secoli X e XI, la città medievale ha sempre più bisogno di acqua, anche per abbellire le piazze e i quartieri. Da questo momento in poi, la ricchezza di una città e la concretezza di un buon governo si misurano in base all'abbondanza di acqua. Distribuendo acqua a sazietà, l'autorità comunale dà fondamento alla sua legittimità e prova la sua efficacia nella conduzione della cosa pubblica. Poco dopo, negli ultimi decenni del XIII secolo, il comune popolare di Orivieto si lancia in un'impresa analoga. Per parte sua, Siena amplia la rete dei condotti sotterrani, i bottini che alimentano le più importanti fontane cittadine. Interventi o preoccupazioni della stessa natura sono attestati nella maggior parte dei centri urbani, da Spoleto a Viterbo, e i lavori proseguono o si intensificano durante i primi decenni del XIV secolo, cioè fino a quando la peste non segna una brusca battuta di arresto. L'esempio di Milano costituisce un'emblematica dimostrazione di come l'acqua e il suo utilizzo furono gestiti con criteri che possiamo senz'altro definire d'avanguardia. In età comunale, qui come altrove, la maggior parte della rete idrografica viene sensibilmente modificata. La prima fase di intervento comporta la deviazione dei canali navigabili che passano nelle vicinanze del centro urbano, allo scopo di alimentare i canali cittadini e in particolare quello annulare che racchiude lo spazio edificato. Anche il Nirone e il Seveso vengono a gettarsi nei fossati che circondano Milano. L'acqua conserva la sua funzione originaria, che è quella di proteggere la città. In seguito, per tutto il XII secolo, questa funzione difensiva è di stimolo e giustificazione ai grandi lavori che vengono intrapresi. Lo scavo del canale del Ticinello, che sarà poi conosciuto con il nome di Naviglio Grande, viene portato a termine all'inizio del XIII secolo. Partendo dal tratto meridionale del Ticino, il canale raggiunge la città, rinforzando il sistema difensivo soprattutto contro gli attacchi che potrebbero venire dalla vicina pavia, tradizionalmente nemica di Milano. All'inizio del XIV secolo, durante la Signoria dei Visconti, viene scavato ancora un altro canale, quello di Re del Fosso, esclusivamente a scopo di difesa. Il nuovo corso d'acqua deve proteggere i soborghi che l'espansione della città ha fatto nascere al di là delle mura e con esso viene raddoppiata l'antica linea difensiva dei fossati urbani. I primi interventi idraulici sono dunque il risultato delle preoccupazioni di carattere militare. I canali di Milano vengono realizzati pro-defensione. Tuttavia questa rete favorisce ben presto altri impieghi. Nel XIII secolo l'agricoltura irrigua si sviluppa in tutta la pianura padana e lombarda e le prese d'acqua, per esempio sul naviglio grande, si moltiplicano. Si scavano canali di derivazione, spesso per iniziativa dei proprietari fondiari, ed è al Comune che aspetta di intervenire disponendo l'esecuzione di grandi opere idrauliche, in modo da conservare il volume d'acqua nei canali principali. Negli stessi decenni le via d'acqua vengono investite di una nuova funzione. Esse facilitano gli scambi e la circolazione delle derrate e tendono a creare uno spazio economico unitario tutti intorno a Milano. Una circostanza che rende questi lavori di approfondimento e ampliamento dei canali ancora più necessari. Fonti di guadagno. Il ruolo economico ha ormai soppiantato quello militare e all'inizio del XIV secolo l'intero tracciato del naviglio grande è diventato navigabile e continua a essere la principale fonte di approvvigionamento per i numerosissimi canali di derivazione che irrigano la pianura. Da ultimo, ed è un dato da non ignorare in questo quadro, i canali forniscono nel contempo l'energia a tutta una serie di impianti industriali che si sono stabiliti nei quartieri periferici della città. Questi impieghi multipli e talvolta contradditori implicano l'intervento di un controllo pubblico garantito in questo caso dal comune e poi dal principe. L'esecuzione di continui lavori e l'esercizio di delicati abitrati che fissano le regole per la spartizione dell'acqua. Così, mentre un sistema idraulico capace di rifornire al tempo stesso gli utenti di città e i canali destinati all'irrigazione ai terreni, si diffonde dunque in numerosi centri, Brescia, Bologna, Modena, Ravenna, eccetera. Il fatto che ovunque si imponga la gestione pubblica facilita una cresciuta valorizzazione economica dell'acqua. Si può quindi comprendere perché, alla fine del Medioevo, le dissertazioni in cui si tessono le lodie di una città celebrino sempre l'abbondanza d'acqua fra le sue più apprezzate qualità. La menzione non è un elemento di semplice circostanza, poiché in questi centri l'acqua, sorgente di vita, è divenuta anche la fonte di ricchezza e di profitto. Grazie.